Sì, c'è una bambina che mette 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 Quando è che parte, scusi, questo? Quando parte? Dove vai? Alle 5 e mezza Scusi, buongiorno, per Milano quando parte il treno per Milano? Eh, bisogna guardare l'orario Grazie Oh, che bella! Com'è bella! Sì, è proprio bella! Sì, è piaciuto? Come eravamo? Sì, è un eravamo Sì, è un eravamo Grazie a tutti. 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 Vabbè, peccato, non l'idea adesso. Per punizione, per aver fatto un figlio così. C'è che lo foco. Perfetto. Non temete, è fuoco vero, eh? Di chi era questo? L'accendino? Di chi era? Chi mi ha dato l'accendino? È andato via? E' fuoco vero, è fuoco vero, non te, ma guardi, provi, provi, è fuoco vero. Visto? Fuoco vero. Oh, sei spento. Qualcuno ha un accendino? Oh, ce l'ho io. Oh, ce l'ho io. Oddio, ho fatto piangere da bambino. Non temete. Oh! Ha bruciato, ha bruciato, ha bruciato, è un suo buono. Me lo tenga lei, se è gentile. Alto, eh, perché il fuoco va verso l'altro. È fuoco vero! Anche, facciamo una cosa più pericolosa, lo prenda lei. Molto, me lo lancia dalle retrovie, sopra le teste dei suoi. Eh, proviamo? Così, guardi, è così. Così, glielo lancia, lei lo prende, eh? Pronto? No, me lo lanci lei. Oh, com'è, sì? Già non so' buono. E ora mette tutto so' fuoco. Ah, troppo. Non te, chi ha paura dello fuoco? Eh, c'è il ma... Tieni, prova tu allora. Tieni, devi vincere la paura dello fuoco. Devi vincere, si impara così, dai giullari. Tenetemi, sere, alto e alto. Alto. Allo centro, non me si abbruci. Non me si abbruci. Allo tre, lei lo lancerà sopra le teste dei malcapitati. A lui non succede nulla, guarda. Lei stia tranquillo, tanto ormai. Magari, magari di lui mi preoccupano poco. Mi dia questa. Si protegga, si protegga, si protegga, 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 non te, ma... È uno spettacolo interattivo, dovete fare quel che io vi chiedo. La sta abbrugiando? Dove? Ah, come lancia, come lancia? Dritto, eh? Magari si alzi, perché dopo la responsabilità è sua, eh? Io facevo lo spettacolo e lei che ha deciso di aiutarmi. Dica, io voglio aiutare il giullario. Non urli. Io voglio lanciargli il fuoco. Le dica. Eh, ci sono tutti. Eh, testimoni oculari. Alla mio tre, rullo di tamburi. Vai! Lancia! Lancia! Eh, eh! Oh! Vabbè, vabbè. Oh, vabbè, questo di fuoco. Qua, così, qua. Una mano. Un, due, un, due, un, due. Oh! Proteggi, si è proteggi. Oh! Ma... Era solo... Era solo un trucco scenico, era solo acqua. Era solo acqua. Lo faremo più periglioso. Farò qualcosa di veramente terribile. Qualcosa... Vati di pensare. E ferma le uno con i denti. Uno! Due! Brucia! Ha sempre avuto un ruolo fondamentale nel grande libro della storia. Grande Mauro! Facciamo ancora un altro applauso! Mauro Taccaliti! Tra breve ci sarà l'esibizione di Chiara Vitale. Ieri ho definita veramente un'atleta di livello olimpico perché riesce con questo... Il mezzo è di nuovo a qui... Grazie a tutti 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 No, non scopre da solo No, non scopre da solo Sì Non vede che scopre la gente? No Non vede che scopre? Eh, scopre la gente Ma bisogna vedere se il fotografo Non sono registrato Non sono registrato Non sono registrato Ma non credo, eh Come no, guarda E devi schiacciare per fare la foto Ma no, guarda Eh, allora dovevo farlo in video Si faccia aiutare da Sciur Sennò per chiedere al signore Come si fa Signore, secondo lei qua Sta fotografica Allora, perché l'ha scocciato ogni volta Perché sta fotografico E anche filmino Non lo so Perché non sono pratico Io per me Poi la devo schiacciare Eh Sì, sta facendo le foto Mi devo schiacciare ogni volta Eh, ma le foto, vede Mi ha morito che dici che fai la fotografica Vedi che si vede Sì, ma perché la ferma Si vede Ma però la devo schiacciare Perché non ho messo Mi dovrebbe mettere le due Le davanti Ci chiamano La mele di numeri No, è'santa Sì, beh, so Però si parla di chiamare Vedi un uomo Si parla di chiamare Io ho ancora visto Le due Le due Le quattro Sono 200 Sì, scusate Allora, non so Sì, sì Che cosa? Sì Sì Che cosa? Che cosa? Sì Sì Che cosa? Che cosa?